La fiera di San Lazzaro fin dalle origini è stato un punto di riferimento per la comunità. Un evento atteso durante tutto l'anno, perché proprio qui si potevano sperimentare esperienze straordinarie. Alla fiera da secoli si scoprono novità, si assaggiano prelibatette, si ascoltano musicisti eccezionali, si balla, si sorride, si vive. Musica, spettacoli, intrattenimento, buon cibo e possibilità di conoscere innovazioni del territorio. Preparatevi alla meraviglia, allo stupore e a una festa che vi rimarrà nel cuore così tanto da volerci tornare ogni anno.